Da Belluno a Vicenza, da Rovereto a Pordenone, il nord-est in questi anni è stato attraversato da almeno una decina di foreign fighters già espulsi dal nostro paese, ma fa più paura la scoperta che almeno 4 dei terroristi coinvolti negli attentati di Parigi e Bruxelles sono passati dall'Italia nel corso del 2015 e che addirittura uno dei kamikaze di Bruxelles, Khalid El Barkawi, è atterrato all'aeroporto di Treviso, negli stessi giorni in cui Salah Abdeslam, l'organizzatore degli attentati di Parigi, era in Italia. Italia rotta di transito preferita, a quanto pare, dai terroristi e ora ci si domanda quanti nei loro transiti dalla Grecia al centro Europa siano passati proprio da qui. E per questo fa riflettere ancora di più l'intervista rilasciata dal procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio a Radio 24. Nordio parla senza mezzi termini di una guerra santa, una guerra religiosa che una organizzazione ha dichiarato contro l'Occidente e che può colpire ovunque in qualsiasi modo e contro la quale non abbiamo difesa, perché un suicida può colpire non solo in aeroporto ma dice anche in ospedale, nelle scuole. Credo che in Italia, chiarisce il procuratore, ci siano cellule silenti, gli attentati sono la punta di un iceberg, una polveriera che sta covando. Contro questo le singole magistrature non bastano ma secondo il procuratore a nulla varrebbe schierare contro simili organizzazioni una super procura europea che funzionerebbe secondo le regole della magistratura. Meglio sarebbe immaginare una sorta di FBI europea, una intelligence, una sorta di ufficio investigativo che si muova agilmente, senza confini né vincoli legislativi che sono diversi per ogni paese europeo. Un organo inquirente e comune presupporrebbe infatti che ci fosse una procedura penale europea comune o un diritto sostanzialmente comune e questo in Europa non esiste, spiega Nordio. Altra cosa sarebbe un organo che quantomeno si scambi i dati fondamentali che sono gli unici utili oggi per combattere il terrorismo e il fanatismo religioso. Di questo, secondo Nordio, si sente davvero il bisogno. Tanto più che l'Italia, spiega il magistrato, è molto avanti per l'esperienza fatta con il terrorismo interno e le organizzazioni criminali come le mafie. Esperienza che continua Nordio insegna agli inquirenti a ragionare come i terroristi, una caratteristica che le polizie del Nord Europa non hanno. Ma il coordinamento non basta. I terroristi, come si è visto, si muovono agevolmente in Europa in aereo o in auto, senza ostacoli. Quindi in Calzanordio manca ancora una volta lo scambio di informazioni e in più non mettiamo in campo le tecnologie più avanzate per identificare i criminali. Penso, dice, alla mappatura delle DNA. Se fosse fatta a livello globale consentirebbe delle individuazioni in tempo reale. C'è solo da augurarsi che lassù, al Parlamento e alla Commissione europea, qualcuno sia in ascolto.